Spazio alle immagini che arrivavano dal telescopio spaziale web. Torniamo a parlare di spazio anche quest'oggi per altri motivi, però ci colleghiamo con la Guiana francese dove c'è la nostra inviata Simona Vasta perché dalle 15.13 ora italiana c'è un altro pezzettino d'Italia che è in orbita. Sì esattamente, ci sono una serie di satelliti in orbita grazie a quello che è il razzo che li ha portati. Il razzo Vega-C è il volo inaugurale, è stato un volo inaugurale ad alta tensione perché per ben due volte è stato rimandato. Diciamo anche che gli orari scelti forse erano a rischio superstizione perché il primo volo era programmato per le 13, 13 minuti e 17 secondi del giorno 13 luglio. Poi è stato rimandato di un'ora e infine proprio all'ultimo secondo dell'ultimo minuto possibile per quella che era una finestra temporale di due ore per poter poi inviare questi satelliti, trasportare questi satelliti in quell'orbita polare che era stata appunto scelta da quelli che sono poi committenti che devono portare in cielo questi satelliti, il razzo è partito e i suoi nuovi motori hanno funzionato. Nuovi motori ovviamente a propellente liquido, quelli che riguardavano i primi tre stadi del razzo, l'ente liquido ovviamente molto controllato, una miscela speciale e che sono stati però rafforzati, questo proprio per poter portare un maggior numero di satelliti in quell'orbita che è sempre più sfruttata a livello internazionale. È sicuramente un enorme successo per quello che riguarda l'industria spaziale ma anche la ricerca spaziale. Consideriamo che il satellite più importante che è stato poi depositato è l'ARES-2 dell'Agenzia Spaziale ASI che ci porta anche con l'immaginario a quella teoria della relatività generale che dovrà studiare ma soprattutto su quelle che sono le distorsioni temporali che comporta la teoria della relatività generale e quindi sicuramente è uno dei temi su cui molti si interrogano e su cui si studia. Quindi possiamo proprio dire una soddisfazione generale. Abbiamo visto dopo due ore ad alta tensione scienziati, ingegneri che si abbracciavano, che applaudivano veramente felici per quello che erano riusciti a produrre. È stato anche comunque un successo dell'industria italiana in genere ma anche dello stesso governo che proprio con i fondi del PNRR ha già destinato 4 miliardi per quello che è l'industria e la ricerca spaziale. Qui c'era anche il ministro per l'innovazione tecnologica Vittorio Colao che ha parlato appunto della necessità di continuare ad investire in un settore che vede solo 7 nazioni nel mondo riuscire a poter inviare satelliti in orbita e tra queste sicuramente quella più attiva è proprio quella italiana che collabora ovviamente la società Avio che ha progettato e realizzato questo vettore, questo Vega-C che già da 10 anni portava in orbita satellite con il Vega ma ne poteva portare un quantitativo inferiore cioè più attivamente la metà in peso proprio perché non erano stati potenziati questi motori però sicuramente è un nuovo passo, si pensa già a un futuro Vega, Vega-F che possa portare ulteriori vettori e soprattutto si pensa comunque a quell'economia con la new economy che riguarda lo spazio e che deve continuare ad essere uno degli asset principali della ricerca italiana proprio perché siamo tra i primi al mondo e se consideriamo anche le stesse immagini di cui parlavamo della NASA anche quelle sono state mandate proprio con i propulsori italiani di Avio attraverso la missione Ariane proprio perché anche gli americani alla fine si affidano a quelle che sono le tecnologie che vengono sostenute dall'Agenzia Spaziale Europea da quelle italiane e dalla stessa Avio Grazie Simona Vasta, buone notizie per una volta parliamo di parità